Qui al Cibus, in questa splendida vetrina, innanzitutto presentiamo un rebranding, quindi il nuovo logo rivisitato che in realtà si ispira al passato, al marchio di 120 anni fa. E inoltre abbiamo rivisitato tutta l'immagine dei nostri prodotti con nuove etichette, tornando proprio alle origini, rispettando quelli che sono i valori e le emozioni. Abbiamo ripreso l'oro, abbiamo il blu e il rosso che sono proprio l'icona del nostro prodotto chiave, che sono le alici in salsa piccante. Abbiamo anche ripreso le forme di un vecchio stabilimento Liberty che rappresenta l'azienda da sempre e si ritroveranno sia nei vassoi espositori che nelle etichette del tonno. Siamo poi molto soddisfatti di quanto la nostra ricerca sviluppo ha saputo fare, quindi presentiamo in anteprima qua a Cibus per il reparto freschi, quindi linea vancoprigo, una vaschetta 100% riciclabile con il 70% di plastica riciclata. Non è stato facile perché il nostro prodotto richiede una barriera all'ossigeno molto alta, quindi ci sono voluti veramente 5-6 anni di ricerca per trovare il prodotto ottimale, per riuscire a garantire l'ottima qualità, la chef life corretta e la riciclabilità. Abbiamo anche presentato un nuovo prodotto, quindi il tonno in lattina, un nuovo prodotto ovviamente per noi di Rizzoli, che solitamente siamo visti come acciugai, passiamoci il termine, entriamo nel mondo del tonno in lattina, in realtà da vecchi cataloghi dei primi del Novecento abbiamo visto che era una referenza già in assortimento, abbiamo proprio trovato dei cataloghi dei primi anni del secolo scorso dove Rizzoli proponeva il tonno spot, era tonno con legumi e lattine di tonno, quindi questo perché era ricchi di proteine e lo proponevano come prodotto adatto agli sportivi già nei primi del Novecento. Quindi abbiamo deciso di rientrare in questo mondo, che è un mercato molto ampio rispetto a quelli a cui siamo abituati noi, come le acciughe e lo sgombro, e lo facciamo con due referenze, con un filo d'olio e al naturale. È un mercato molto ampio che ci permetterebbe di prendere anche con piccoli spazi una buona quota per noi e inoltre perché abbiamo stretto un accordo con un importante partner in Ecuador che ci riesce a garantire la qualità che noi cercavamo. Grazie.